Buongiorno a tutti ragazzi sono Chiuso e ho avuto un nuovo video di Minecraft Pocket Edition In questo video ragazzi si sono tornato su Minecraft Pocket Edition semplicemente perchè non voglio più fare horror Fino a che non arrivo al computer nuovo sperando bene a scuola ma penso che si Comunque oggi siamo tornati su Minecraft Pocket Edition ragazzi si ricorda qualcuno di voi cosa dove eravamo rimasti Allora voi state qua dentro ok intanto piazzo che palla è vera che non è come Minecraft il computer Allora ragazzi in questo video volevo costruire le strade la strada che mi porta dalla casa all'altra casa E poi piano piano costruire tutto il nostro paesino il villaggio come cazzo lo volete chiamare Allora no questa è la vecchia casa perchè io adesso mi sono trasferito ragazzi attenzione Chiurre si trasferisce in città Fare Baldoria Allora io dovrei avere tipo tutto il mio mezzeria Ok ferro cotto Cotto a pontino Mi servono Mi serve della stone innanzitutto Quindi prendiamo il nostro bel carbone Lì intanto scusate ragazzi non so perchè c'è un blocco di pietra di cobblestone Dove forse Mark Zuckerberg me lo sa dire Allora mettiamo a cuocere tutta la nostra bella cobblestone Eh si Tata 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 Intanto che la cobblestone se cuoce Io vi volevo ringraziare ancora Perchè vi volevo ringraziare ancora Perchè siamo arrivati al traguardo quasi di 170 iscritti ragazzi Veramente stiamo salendo tantissimo Io sono contentissimo grazie a tutti voi per questo traguardo epico ragazzi Per me è epico perchè io quando ho iniziato questo percorso su youtube non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo traguardo Quindi veramente grazie veramente a tutti voi Ok solita leccata di culo giornali Eh perchè sennò non sono contento Allora io intanto dovrei avere già delle slab di pietra Perchè a me piace farle con le slab Poi sotto nei commenti datemi anche dei consigli su come abbellire il mondo Su come su che cazzo fare insomma Allora io però non avevo portato tutto di là Mi ricordo che Sì però sono handicappato non riesco a seguire Mi ricordo che avevo portato che c'era ancora qualcosa qui Allora qui ci sono delle cose che sono abbastanza inutili Qua no c'è del vetro Qua Eccole qua le stone bricks No che non sono stone bricks però va bene La stone anche c'è Ok ragazzi direi che possiamo passare alla costruzione della nostra strada Allora Sì però Ecco torniamoci subito E la facciamo partire tipo da qua Bam Bam Ok ragazzi strada incominciata Sembra Mi servirebbe autocad per fare questo progetto Perchè secondo me è troppo complicato Non volevo farla due corsie vi dico la verità Inizialmente Solo che poi ho visto che Uno mi scocciava a ingrandire la La come cazzo si chiama Dai la porta della casa Perchè mi scocciava Perchè si E oggi Quindi niente La lascio così Lascio una corsia sola Si non è molto bella lo so Però Dai Meglio di niente ragazzi Meglio veramente di niente Così almeno so dove devo andare ogni volta Volevo abbellirlo un po' Volevo abbellirlo un po' Questa città Perchè comunque dai Ci tengo La nostra serie La curecraft Si sto modificando Ogni giorno ragazzi Che voi aprite il video Il mio video di minecraft Viene fuori il nome di un'altra serie Cioè tipo All'inizio è la lioncraft Poi diventa curecraft Poi diventa sto cazzo craft Niente Ho visto anche che A proposito di Merda A proposito di merda Si la merda è molto buona da mangiare Mi hanno scritto sotto nei commenti Mangieresti la merda per 200 like Sabato vi darò la risposta Detto questo ragazzi Allora io potrei già incominciare A andare a prendere la mia stone Metterla nel tagliateste Nel tagliapietra Lì come cazzo si chiama E inizierò a lavorare appunto Perchè questo è l'inizio del progettino Solo che mi servirebbero anche altre slab Quindi Prendiamo un attimo sta stone Continuiamo a fare lo slab Perchè devo arrivare almeno alla casa sull'albero Quanto ho di batteria? 26% Molto bene Come si fanno le slab raga? Ah le slab Le slab si fanno col tagliat Col tagliat Dai avete capito Si Dicevo sotto nei commenti Se magari la strada non vi garba Scrivetevi nei commenti Come abbellirla Sono ripetitivo Sono molto ripetitivo Si Penso che l'abbiate capito Da quando sto su youtube Che sono molto molto ripetitivo Allora slab Bam 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 Ok 60 Abbiamo uno stack di slab Forse anche uno Un po' Allora raga Intanto che costruisco Vi racconto un attimo una cosa Oggi che sono andato a scuola no? Sono entrato tutto contento Allora mi è arrivato Ci ha mandato Ci ha andato tipo la circolare Non so come cazzo si chiama La circolare Dicendo che Sabato C'è scritto Sabato 20 settembre Si entra alle 9.55 Ok va bene Però sabato è 19 domenica il 20 Quindi io domenica le 10 sono a scuola Ragazzi non è 20 No però Mi hanno scritto che comunque Entro due ore dopo Neanche una Ma bensì due ore dopo E voi vi starate chiedendo Vi starate chiedendo Vi starate chiedendo Perché Cure Entra un'ora dopo a scuola Non me ne ha fatto un cazzo Nessuno Però io lo dico comunque Perché Manca il prof di meccano Manca anche la terra Con 12 di terra Ce la faccio a coprirla Non so Adesso ti dico Aspettate ragazzi Aspettate un attimo Oddio Forse ce la faccio per un No Non dirmi che per un blocco Non ce la faccio Ma no Neanche per un blocco Aspettate Non è molto estetica Esteticamente non è molto bella Però dai Ci si accontenta Allora ragazzi Perché Cure Va a scuola tardi Perché Manca il prof di meccanica Lo devono ancora scegliere Cioè Non sa La mia scuola Ci si organizza tutto All'ultimo minuto Ok Prof di meccanica La prof di inglese Torna a fine settembre Quindi Ciao la zi E Mi sto sbagliando A mettere i blocchi ancora Sono abbastanza Andicappato Allora direi che Fino a qua possiamo portare la strada Poi facciamo così Così Sì Quello lì poi è bello Lo lascio perché mi piace Però io devo andare anche a dormire Che è quasi notte Però che palle Quando mi si piazzano i blocchi A caso Veramente È una cosa che mi sta sul cazzo In una maniera incredibile Da Andiamo dai È aperto Ma chi si incula Dormiamo con la porta aperta Dov'è il letto Il letto Ah mi sa che è di sopra No Ragazzi hanno inculato il letto Dai che palle Vabbè Ma non è craft uno qua Chi si è visto Si è visto Siamo A caso Lo craft il letto Ah devo prendere il legno Ok ragazzi siamo tornati Sto dormendo Go to sleep Sì Buongiorno amici Siamo su Su radio studio delta No Può essere anche No Però facciamo così Intanto Prendiamo la nostra bella stone Che palle quando gli piace i blocchi Ma scusa Ma scusa Un po' scombinati Un po' stazioni Ed sta merda Non ci fanno cambiare Ah mi sa che devo uscire un attimo Allora non ci voglio Poi li cambierò Le cambierò Piano piano Allora Andiamo a ripiazzicare Tutti i nostri slab Guardate quello che è bello Che è intanto Allora Tac 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 No Ah ho esagerato di uno Ho esagerato di uno Ho esagerato di uno Ho esagerato di uno Ok Tac Tac E Tac Ok Tac 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 Ok ragazzi La strada sta per Completarsi La prima delle tante strade Poi off camera Vedo un po' cosa fare Dai Forse Continuerò Forse Cioè nel senso Sinceramente ragazzi Vi posso dire la verità Non so Quanto Potrà durare questa serie Perché sinceramente A me Giocare a minecraft Sul telefono Non mi piace E vi dico anche il perché Scomodità 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 Super Un motivo Un motivo anche Non un metodo Un motivo Per cui minecraft Crascia Tutte le versioni Mi crashano Tutte le versioni Mi crashano Non so più Che cazzo fare Ok Intanto Piazzichiamo La nostra stone Tac 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 Ah comunque dai Quando arrivi dal computer Nuovo Tranquilli Che le serie horror Ci saranno Ragazzi Ci saranno Ci saranno E se Dio vuole Settimana prossima Sì Veramente Adesso non vi dico più niente Perché non so neanche io Sinceramente Quando possa arrivare il tutto Il cavo component Della ps3 Sì Della ps3 Per ricollegarlo All'hd Plus R Così riesco a registrare Ok ragazzi Abbiamo fatto anche La nostra prima stradina Solo che in stone Non mi piace Quindi molto probabilmente La cambierò Con legno Di Querc Detto questo ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate Iscrivetevi Passate la pagina Facebook E Instagram Che come i miei video Lascio nella descrizione Iscrivetevi anche Le domande Con l'hashtag Chiurisponde Per Per rispondervi Appunto A quello che volete sentire Da Chiur è tutto Ci si becca Al prossimo video Never Back Da